Cari studenti, buongiorno. Sono Stefano Serra Capizzano, il prolettore vicario dell'Università degli Studi dell'Insubria. E con questo messaggio, breve messaggio, vi invito a iscrivervi a questa giovane università. Un'università in cui la qualità, il talento, l'attenzione per gli studenti sono grandemente incentivate e dove abbiamo preso anche delle iniziative rispetto alla questione difficile della pandemia che stiamo vivendo. Quindi una no tax area per gli studenti che si iscrivono da noi, che sale da 13.000 a 20.000 euro di redditi, un fondo di emergenza per quelle famiglie dei nostri studenti che fossero in difficoltà a pagare le rette universitarie e sicuramente una grande attenzione alla sicurezza. Intendiamo preservare, ove possibile, la didattica in presenza e i laboratori. In questo, fatemi dire che le piccole dimensioni aiutano. Potremmo offrire un servizio agli studenti, una didattica, anche in modalità tradizionale, nel rispetto della massima sicurezza e con la qualità dei nostri docenti e la qualità scientifica del corpo docente che è molto elevata e che vi garantirà non soltanto di apprendere ciò che normalmente si apprende in un Ateneo, ma anche di acquisire una professionalità che vi aiuterà fortemente nel mondo del lavoro. La nostra università è una di quelle che garantisce di più l'accesso nel lavoro dopo che si è laureati. Vi ringrazio e iscrivetevi all'Insubria.